io mi sono io lo so noo Yonis si è d'altro ma Angie facciamo quella come fa Yoni noo nooo aspetta Yonis stai facciamo la rampa è vero la rampa vai noo insieme stai avendo a Yonis ah già si è incastrato ah no non si è incastrato scherzavo oh no sto qua non capisce wow ehm il problema che sono incastrato ah no scherzavo che è un altro anzi salito aspetta ma come mi ho sbloccato vai ragazzi dai 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 ho un'idea ti ricordi quello che siamo saliti si lo facciamo sì sì come annusa cadi risaliamo di sopra come vecchi tempi se ci riesco cioè se c'è riesco da solo perché ci ho fatto per davvero non posso regali che sto qua per ricordarmi guardami ma la cosa faccio Volevo fare la rampa! Ah! Guardateci la rampa! Chi sta arrivando? Stefano! Dai, come stai? Oh! Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Io ce l'ho fatta! Perciò che è un botte! Oh! Oh! Madonna! Ho sbagliato! Rega, ho sbagliato! Peter! Oh! Va bene! No! Poi ho fatto la vita! Oh mio Dio! Va bene! Poi potremmo farlo adesso, dopo questi round, rega! Che cosa? Eh no! No! Io proprio adesso! Cioè io ho fatto la vita! Oh mio Dio! Dai! Eh no! Maledetta! Adesso mi vedo! Adesso mi vedo! Perciò la vita! Guardiò! Guardiò la vita! Regà, lo dico da voi, eh! Guardiò più su allo stile! Maisiertà! Ehtà! Quei... Qualcosa ho fatto! Iannus! Ma regà! Ma eccovi, regà! Andiamo! Cazzo duro? O cazzo duro? Andiamo pure l'orino? No! ok che cosa raggiungiamo no che volentieri no solare ma va bene picca buio va bene che lamenta di più dici sport erga oggi tu che dici chi lamenta di più ma io non dico niente Samuel va bene mi ha fatto giocino ma cosa erano raga non mi va ma raga ma raga ma raga ma raga che genio che sei Angie veramente quanto sei un genio quanto sei un genio da una dieci dai l'ho fatta a posto ah molto bello non mi vuol dire Angelo è caduto da solo ok è caduto da solo ok no ricado mi pare aspetta il mio sole del patch dai non urlare che i perdi ma tu sto andando veloce il patch la volta da qui dobbia butta ma vabbè vinto io no io uso dove l'ho buttata hai preso il pano ma no ve l'ho buttata facciamo la rampa e due scusami che ciò d'argo facciamo la rampa raga la rampa e tre entrai stai metti tifosi come me no Angie alla fine aspetta no alla fine poco duro anzi una rampa una rampa per me guarda va bene no non così vai a rossi aspetta faccio io ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta anche lui vai a rossi vai a rossi va bene prendi il punto giusto vai a rossi si mi ha fatto qualcosa hai fatto pure stai scappeggiando io va bene stai scappeggiando aspetta stai scappeggiando stai scappeggiando stai scappeggiando eccomi voglio fare una bella botta no 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 stai scappeggiando stai scappeggiando stai scappeggiando no aspetta angelo levati ehm shish ce l'ho fatta non so cacca janus no flavi dai janus uscello dai aspetta ok ragazzi sono l'unico che sfortunato del mondo dai stai come aspetti ci vuole divertire tutti sì sì anche tu hai detto aspetta ed è che abbiamo aspettato ai fatti non regalata c'è poi no è stato aspettando cosa cosa a un giro un giro il giro tendo a caga al mondo caga per terra giudice per terra che cos'era quell'uomo no 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 allivo vedi come si è buttato Flavio voglio provare a fare la rata per arrivare sulla nave mamma mia io luce ma tu sei forte come è troppo lontano guarda te sei troppo lontano ma guarda mi sono cagato in mano via ta via ta va bene ah va bene ok ok ho vinto ha buttato tutti e tre l'anus raga ok raga ho vinto faccio una cosa incredibile c'è io sempre l'acqua un bello 360 il volume più più basso lascia solo solo una lascia guarda se io ti sento che parli tanto subito ti prendo un caldo domani non giochi più aiuto sono invincibile non mi putterete mai giù va bene adesso arriva ragazzi è una testa slavio madonna meno male che mi rispostava se non faccia una botta che mi viene al dorso sempre no cagate che bocca guardate no io sono secondo ragazzi il primo giro ero intrigante che bocca con te arrivo arriva ragà ce l'ho fatta sono andata a sbattere però ce l'ho fatta e noi abbiamo proprio buttato ragazzi Sottage! Oh shit! Oh shit! Spingiamoci! Nooo! Madonna! Non ci troppo! 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 No! Nooo! Quella madonna cos'è? Vada! 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 Che cosa ho fatto Fluffy? Cioè Fluffy si è veramente... Vabbè! Va bene! C'è Angio si è buttato mare! Altro lato! Altro lato! Nooo! Ciao! E' bello! Vada! Non ci credo! Chi? Ah ce l'hanno tutti contro me! Vada! Guardate come si prende il checkpoint! Vada! Vada! Come l'ho portato su l'armi ragazzi! No ragazzi! Ah ma grazie! Prova avanti! Grande! Tumajalus! 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 Sono Bolivia! Era... Un fantasma ancora! Wow! What the? No! 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 Grazie! Grande! E' impress! Questa raga! Ha così spitta in su! E' indietro con la retta marcia! Ahahahahahahahahaha! Che foto! Oio che foto! Oio che foto! Ai! Una che a... Mi aiuto a corriere le botte! Mi ho colato! Ma io è volato! io sono andato soppeggiato, sono andata in pietra, volevo spiegare un bel andato, vedi a scopo ma stai facendo il video